buongiorno consiglieri sono le undici e un quarto la seduta era stata rinviata di un'ora buongiorno 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 facciamo l'appello teresi assente aiello assente altadonna assente gesù assente figuccia assente lo sardo presente presente lucido assente pazzo presente presente stabile assente sette assenti e tre presenta stando così le cose quindi non ci sono non c'è il numero legale la seduta viene rinviata a domani alla stessa ora grazie buongiorno a tutti buongiorno 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 buongiorno